Come possiamo realizzare delle foto tessere a regola d'arte? Possiamo scattare da soli le fotografie che poi andranno a finire sul nostro passaporto o sulla carta di identità? Nel corso di questo video andremo a rispondere proprio a questa domanda, motivo per cui vi consiglio di rimanere seduti comodi fino alla fine. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto per non perdervi i prossimi succosi aggiornamenti sui temi che riguardano fotografia, videomaking e design. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per le aziende da tanti anni. Mi capita più spesso di quanto vorrei, che le persone mi chiedano se faccio anche foto tessere. Ora, normalmente la mia risposta è questa. No, io non faccio foto tessere perché non ho attrezzatura adatta alla stampa, non ho uno studio adeguato a ricevere un pubblico di persone che richiedono un servizio di questo tipo, ma soprattutto per me è un servizio fuori budget. Nel senso che lavorando per le aziende io lavoro a determinate tariffe abitualmente e prendermi il tempo per fare una foto tessera a una singola persona, per me non vale i soldi che quella persona è disposta a spendere per una foto tessera. Questa cosa vale per moltissimi fotografi ed è per questo motivo che alla stazione del treno e nelle stazioni della metropolitana ci sono dei photo booth, delle cabine dove si può entrare e per una cifra assolutamente irrisoria c'è una macchinetta che scatta automaticamente una fotografia e ce la stampa in tutte le copie che vogliamo, per cui con dei costi assolutamente contenuti chiunque è in grado semplicemente inserendo un paio di monetine di realizzare la fotografia per la propria carta d'identità o per il proprio passaporto o per la patente o per qualunque altro scopo ci siamo prefissati. Ecco però che andare a scattare le fotografie in un contesto del genere non sempre ci dà la resa migliore, per cui innanzitutto oggi andrò a spiegarvi quali sono le regole che dobbiamo seguire quando andiamo a scattare una fotografia di noi stessi o di qualcun altro per una fototessera, per un passaporto o per un documento. Successivamente andremo anche a vedere come si realizza una fotografia del genere in casa con una strumentazione il più basic possibile. Bene, dovete sapere che quando realizziamo una fototessera non è che possiamo farla proprio come vogliamo noi, perché le fototessere devono rispettare le cosiddette norme ICAO. È una convenzione che è stata stabilita a livello nazionale e non solo e quindi tutte le fototessere sui nostri documenti devono rispettare queste linee guida. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Prima cosa, la fotografia deve essere recente, in teoria dovrebbe essere scattata negli ultimi sei mesi. Ora, questa cosa va un po' a discrezione di ciascuno, perché io per esempio ho questa faccia circa da vent'anni, quindi se gli do una foto fatta ieri o fatta cinque anni fa non cambia niente, non se ne accorge nessuno, ho lo stesso taglio di cappelle, la stessa barba, la stessa faccia, ho sempre due occhi, un naso e una bocca, quindi più o meno non cambia niente. Certo è che se gli diamo una foto di quindici anni fa potrebbe insorgere un problema, quindi cerchiamo comunque di dargli una foto non troppo passata. La fotografia deve essere a colori. Questo per ovvi motivi, la fotografia serve a identificare la persona. Se io do una mia foto in bianco e nero non si capisce di che colore ho gli occhi, di che colore ho i capelli, quindi la fotografia deve essere a colori. La fotografia deve avere un'espressione neutra e la bocca deve essere chiusa. Questo significa che non possiamo fare facce strane, dobbiamo stare, presente quando si dice fammi la fototessera, devi stare dritto, fermo, bocca chiusa, occhi in camera, tutti e due gli occhi aperti, le solite cose. Bisogna essere il più riconoscibili possibile. Parlando proprio di occhi, c'è specificamente richiesto, gli occhi devono essere entrambi aperti e ben visibili, quindi le foto così non vanno bene. Se abbiamo i capelli che coprono dobbiamo tirarli indietro, gli occhi devono essere entrambi visibili. La foto deve avere uno sfondo bianco con luce uniforme. Ora su questo ci si può chiosare un pochino perché vedo delle foto che hanno sì uno sfondo che è un muro bianco, però poi non è un bianco uniforme, non è quasi mai un bianco ottico. Se andiamo in studio abbiamo il bianco ottico, se ce la facciamo in casa spesso e volentieri abbiamo un gradiente, quindi non è perfetto, non è assolutamente una foto da studio, però abbiamo comunque un muro neutro. Non abbiamo dietro la foresta amazzonica, non abbiamo dietro la tour Eiffel, non abbiamo dietro niente. Deve essere una fotografia in cui si riesce a evincere quali sono i contorni della nostra silhouette. Per esempio quella che state vedendo voi adesso non va bene, perché io dietro ho della roba, ho un monitor, una luce, un microfono, un sacco di robe, questa non va bene. Io dovrei avere il muro sgombro dietro e con un muro sgombro, anche se non è perfettamente illuminato, la foto dovrebbe essere accettata. Certo, un muro così che diventa grigio perché non è illuminato non va bene, quindi cerchiamo di avere una situazione con una buona illuminazione. La fotografia non deve avere riflessi del flash sul viso e soprattutto non deve avere gli occhi rossi. Questo per dire cosa? Se ce la scattiamo da sole e ce la scattiamo col flash sulla camera rischiamo di avere poi gli occhi rossi nella foto. Questo non è consentito e inoltre non dobbiamo avere, questo è una cosa che secondo me non la controllano neanche, però se abbiamo la spara flashata con il riflesso del flash con tutte le ombre brutte sulla faccia potrebbe essere un motivo per cui ci chiedono di rifarla. Quindi è meglio non usare il flash sulla camera e non usare il flash neanche sul telefono cellulare perché produce esattamente lo stesso risultato. Va detto che gli occhi rossi possono essere corretti in post produzione. Il viso deve coprire il 70 80 per cento della fotografia dalla fronte fino alla punta del mento. Questo significa che non possiamo stare lontani nella nostra foto, dobbiamo stare vicini, dobbiamo riempire bene il quadro. È una cosa che ci verrà anche abbastanza naturale perché comunque prenderci l'ombelico non serve a niente, darci 20 centimetri d'aria sopra la testa non serve a niente, dobbiamo riempire bene il nostro quadro. La messa a fuoco deve essere nitida. Lo so ragazzi sono delle linee guida assolutamente banali però tant'è hanno fatto delle linee guida in maniera tale che chiunque fosse in grado di capirle. Ovviamente la foto non deve essere fuori fuoco, questo è pacifico. La foto deve essere inoltre fatta guardando direttamente in camera, quindi scordatevi la foto artistica, non potete guardare l'orizzonte, guardare il pensoso, no dovete guardare in camera. È una foto tessera quindi deve essere assolutamente semplice e lineare. Grandezza della fotografia 35 x 45 mm. Questa è una dimensione standard, poi dipende da chi vi ha fatto la richiesta se vi hanno chiesto qualcosa di specifico, però lo standard è 35 x 45 mm. La foto deve essere stampata su carta di alta qualità e in alta risoluzione. Ora questi sono dettami un po' passati secondo me perché alta risoluzione per una dimensione di quel tipo lo smartphone ve la fa tranquillamente quella risoluzione, quindi la bassa risoluzione che vada sotto a quella richiesta è praticamente impossibile da ottenere ormai, quindi sulla risoluzione state assolutamente tranquilli. Sulla carta tenete conto che ovviamente non potete stamparvela da soli con la stampantina della Samsung che avete in casa, ci vuole una carta fotografica di solito lucida, quindi per quello se non avete il macchinario necessario è meglio andare in un centro, in una fotocopisteria, ve le fanno tranquillamente, gli portate il file e vi stampano tranquillamente la vostra fototessera in tutte le copie che volete. Il viso deve essere ben centrato in macchina e non di profilo. Di nuovo non possiamo fare i tre quarti, non possiamo fare i profili egiziani, dobbiamo stare col naso dritto puntato verso l'obiettivo e gli occhi fissi in camera. Semplice, no? Come già accennato prima, la foto deve mostrare la persona da sola senza oggetti sullo sfondo, quindi il muro sì deve essere bianco, non è necessario che sia bianco ottico 100%, però non deve esserci roba. Io dietro ho un monitor, le casse, le luci, non va bene, ci vuole un muro perfettamente pulito. E ora le avvertenze per coloro che fanno la foto con gli occhiali da vista. Ovviamente la foto deve mostrare chiaramente gli occhi e non deve avere riflessi del flash all'interno delle lenti. Questo può sembrare difficile da ottenere, ma vi assicuro che in realtà non lo è. Andiamo a dimostrarlo. Nel momento in cui ho posizionato correttamente le mie luci, vedete che non dovrei avere nessun riflesso sugli occhiali. Ah, tra parentesi, questi sono i miei occhiali arancioni di pantone per la luce azzurra, che non uso quasi mai, però ce li ho lì. Come potete vedere, nel momento in cui io sono dritto, sto guardando in camera e la mia luce è posizionata correttamente a 45 gradi, lievemente in alto, io non ho problemi di sorta. In una fototessera posso posizionarne due, così evito quest'ombra che potrebbe essere contestata, però secondo me in realtà va anche bene, perché comunque il viso è perfettamente riconoscibile. L'ombra è sostanzialmente, questa è una luce praticamente Rembrandt, quindi l'ombra parte da qui e quindi il viso è completamente riconoscibile. Vedete che se io sto fisso in camera con una traiettoria corretta non ho nessun riflesso negli occhiali. Se faccio questo ecco che diventa un problema, perché se faccio questo vado a intercettare quella che è la mia luce principale, ma se io abbasso lo sguardo e sto girato in camera non dovrei avere nessunissimo problema. Quindi questo è un piccolo accorgimento che ci consente di evitare grane. Ovviamente gli occhiali non devono essere da sole, ve l'ho detto che sono norme stupide ragazzi, uno va a farsi la fototessera con i padelloni anni 80 e non si può fare, non si può fare, le lenti devono essere trasparenti. Un'altra cosa che è riportata è che gli occhiali non devono avere una montatura pesante e non devono coprire gli occhi. Questo che cosa vuol dire? Se io me li metto così, non va bene così, perché così vedete che la stanghetta mi sta nascondendo. Io invece li devo mettere così in modo che l'occhio, l'iride, sia perfettamente visibile. Non facciamo stupidate, cioè stiamo normali, non mettiamoci gli occhiali in modo strano e andrà tutto per il meglio. Un'ultima nota a margine, le fotografie con un copricapo sono accettate solamente se è una prescrizione religiosa. Quindi non possiamo andare lì con il cappello a pera per fare gli artisti. Possiamo andare lì con un turbante, un velo, che ne so, una kippa o cose del genere solamente se ce lo prescrive la nostra religione. Altrimenti niente cappelli, niente copricapo, niente sombrero, niente cappello da Indiana Jones. Detto questo però, adesso andiamo a vedere come possiamo realizzare una fotografia del genere con uno sforzo tutto sommato minimo servendoci solamente di una parete bianca all'interno della nostra abitazione. Bene ragazzi, ma io oggi ho un'occasione più unica che rara, ovvero quella di farvi vedere un video brutto. Perché siccome vi ho detto che avremmo lavorato con strumentazione semplice e basica, facciamo questa ripresa con uno smartphone. Proprio per farvi vedere che è possibile realizzare questo tipo di cose in casa solamente con l'ausilio di uno smartphone. Ovviamente se qualcuno ci aiuta è meglio. Io qui ho allestito, non dico un set, però ho messo un treppiede. Quindi ho messo il mio smartphone in maniera che stesse fermo, l'ho messo in posizione come lo volevo. Se abbiamo una persona che ci aiuta, che ci fa la foto e che ci regge due cose, sicuramente è meglio. Ora, la prima cosa che ci serve è un muro bianco. Come potete vedere non è bianco ottico, non è bellissimo, però per un contesto come questo va assolutamente bene. Ovviamente la foto sarà più bella se l'abbiamo fatta in studio, però per una foto tessera è una cosa su cui immagino non vogliamo neanche investire chissà quanto tempo e chissà quanta energia. Uno sfondo del genere illuminato da luce naturale che entra da una finestra con sole fuori senza luce battente va più che bene. Ora, come potete vedere, questo lato è illuminato abbastanza bene, mentre quest'altro lato è in ombra. Questa cosa ovviamente non va bene. Per ovviare a questo problema abbiamo una serie di soluzioni. Il primo, potremmo utilizzare un pannello riflettente di questo tipo, che è un ausilio fotografico che io possiedo già, quindi mi rendo conto che non tutti ce l'hanno in casa, però questo costa meno di luci supplementari. Questo è un pannellino di cui vi lascio il link in descrizione che trovate tranquillamente su Amazon. Adesso andiamo a dimostrare come mettendo questo pannello a lato del viso, vedete, io sto riflettendo la luce dalla finestra e me la sto riflettendo direttamente addosso. Quindi io posso mettere questo bellissimo cartoncino argentato fuori dalla mia inquadratura, quindi non lo metto qua ovviamente, l'immagine deve essere pulita. Tenete anche conto che il quadro sarà questo probabilmente, quindi quest'area e quest'area non servono, quindi io qui posso mettere delle cose. Quindi posso mettere questo cartoncino qui per esempio e vedete che mi illumina correttamente anche l'altra metà del viso. Vero è che qui abbiamo dei riflessi che sono assolutamente sgradevoli che mettono un pochettino in risalto l'occhiaia. In questo caso sarebbe necessario andare ad aggiungere dell'illuminazione aggiuntiva, quindi questo aiuta, la foto così la possiamo fare, non è proprio una bellezza. Sempre per quanto riguarda gli occhiali, ci tengo a metterli, vedete che qui abbiamo un problema, perché qui siamo pieni di riflessi. Ora questo a livello fotografico è proprio un problema perché in una stanza come questa, mi rendo conto è una stanza non trattata, ma apposta lo sto facendo brutto, lo faccio brutto per farvi capire. In una stanza non trattata con luce che entra dalla finestra è molto difficile togliere riflessi di questo tipo. Potremmo usare un polarizzatore, però vi ho detto che usavamo una strumentazione basic e quindi adesso non posso dirvi che dovete spendere 50 euro per comprarvi un polarizzatore per togliere i riflessi dagli occhiali. In questi casi il consiglio che io vi do è di toglierli. Fate la foto senza occhiali, perché se ve la state facendo in casa e avete una situazione di questo tipo, questo è garantito che vi porta a un rifiuto dell'immagine, quindi la dovete poi andare a ripetere. Per cui è molto meglio toglierli e evitiamo il problema. Nel caso in cui abbiate la possibilità di farvi la foto con gli occhiali senza riflessi, perché magari la condizione domestica in cui ve la state facendo ve lo consente, in quel caso non ci sono problemi. Io vi segnalo solo che se avete una situazione come questa, che questo non è uno studio per fare le fototessere, nel caso abbiate una situazione come questa è assolutamente meglio toglierli, perché altrimenti ve la fanno rifare. Ora andiamo a vedere come migliorarla ulteriormente con l'aiuto di una lucetta supplementare. Questa qui è una lucetta piccola. Allora adesso io vado a impostare una temperatura a colore adeguata, vado a impostare la stessa temperatura a colore della luce del sole dall'esterno. Vedete che nel momento in cui vado a mettere la lucetta qui eh, è questa la direzione. Nel momento in cui io metto la mia lucetta in questa posizione vedete che c'è un momento in cui brucia, quindi così è troppo, così mi sta bruciando. Se l'allontano al punto giusto vedete che invece di bruciare mi illumina le parti che altrimenti rimarrebbero in ombra. Ora questo è un punto luce un po' troppo accentuato, bisognerebbe diffonderla un pochettino di più, però insomma è una foto domestica. Secondo me se fate la fotografia in questo modo non vi possono dire granché. Per cui una volta che abbiamo allestito il nostro set, abbiamo messo la nostra fotocamera su tre piedi o comunque c'è qualcuno che ci aiuta, abbiamo messo la nostra lucetta, abbiamo sistemato la scena quel tanto che potevamo, a quel punto riempiamo il fotogramma quanto più possibile, quindi lasciamo pochissimo spazio sopra e pochissimo spazio sotto, ci assicuriamo un'ultima volta che la luce sia quanto più corretta possibile, guardiamo in camera, occhi fissi, bocca chiusa, tac, ed ecco la nostra fototessera. Ovviamente da evitare tutte le facce e faccette che non possiamo assolutamente pensare siano riproducibili su un documento ufficiale. Bene amici, come avete potuto vedere le norme sono tante, alcune sono sciocchine, certo, la maggior parte sono molto semplici da seguire, quindi io non ci ho visto niente di problematico, non è una cosa da mettersi le mani nei capelli, basta stare attenti, seguire le linee guida. Ovviamente il mio consiglio rimane sempre quello di avvalersi della prestazione di un professionista, ma non della mia perché io le fototessere non le faccio, oppure di andare nelle apposite cabine dove farsi fare una fotografia. Se avete esigenze particolari, non vi piacete in foto, volete venire un po' bene, ci sono sicuramente dei professionisti che lo fanno, avete anche la possibilità di scattarvi la fotografia da soli, mi raccomando se ve la scattate da soli tenete conto di tutte le accortezze di cui abbiamo parlato, quindi cercate di farvela bene, cercate di farla pulita da subito, cercate di fare una cosa che non debba essere corretta dopo, portatela presso una fotocopisteria, una stamperia di vostra fiducia e fatevela stampare nel formato corretto, con le dimensioni già giuste e con i colori possibilmente corretti. Altrimenti poi andate in Madagascar e vi arrestano e poi date la colpa a me. Molto bene amici, ma a questo punto io vi chiedo nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, un video di questo tipo molte persone l'avranno trovato noioso, ma viste le richieste che mi fate, perché io guardo le richieste che mi fate in tanti, mi hanno chiesto come si fa la foto per il passaporto, come si fa la foto tessera e quindi mi sono deciso a realizzare questo video in base alla richiesta che ho ricevuto. Fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate, se avete imparato qualcosa di utile, vi ricordo di iscrivervi al canale così non vi perdete i prossimi appuntamenti, io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do come sempre appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.